A Big Blue c'è una grande novità, l'esercito italiano sta mostrando un'apparecchiatura, uno strumento operativo estremamente interessante e veramente innovativo. E' qui con noi il Maggiore Vincenzo Lipari che ci spiega esattamente di che cosa si tratta. Noi abbiamo acquisito come 185esimo reggimento paracautisti, ricognizione e acquisizione obiettivi, un battello di nuovissima tecnologia, un Zodiac Hurricane in conformazione Mach 2. Cosa si intende per conformazione Mach 2? E' una conformazione che permette con un scafo a triplo strato di diminuire in maniera incredibile la resistenza idrodinamica dell'acqua e permette quindi al battello stesso di avere una velocità, una fluidità in acqua decisamente maggiore. La nostra soddisfazione nasce dal fatto che questo battello ha origine da una stretta cooperazione fra la Zodiac e il nostro reggimento. Quindi i nostri tecnici, alcuni nostri volontari hanno lavorato in stretto contatto con gli ingegneri creando e modificando la versione originale dell'Aerican agli scopi operativi del reggimento. Quindi con varianti molto importanti, qual è appunto la chiglia a triplo strato, i motori che sono stati spostati, prima infrabordo, adesso sono entro fuori bordo e permettono quindi una velocità decisamente maggiore al battello e sono stati creati un sistema di rulli nella parte centrale del battello che permette il rilascio di altri due battelli Zodiac o commando 470 per il successivo movimento di infiltrazione del battello. La nostra soddisfazione nasce dal fatto che successiva alla presentazione a livello mondiale del battello altri eserciti e altre forze armate si stanno indirizzando all'acquisto di questo battello nella conformazione da noi creata ed è ovviamente un attestato dell'ottimo lavoro svolto dagli operatori del reggimento, gli acquisitori obiettivi che stanno lavorando profondamente sulla parte anfibbia. Maggiore, questa apparecchiatura, questo strumento, è uno strumento operativo che serve per organizzare diciamo così una difesa preventiva, le azioni preventive se vogliamo chiamare? Diciamo che è uno strumento che ci permette di realizzare una faggia di inserzione in acqua, quindi di un avvicinamento in una zona tecnicamente ostile, quindi con presenza di personaggi ostili alle nostre forze e conseguentemente di avvicinarci via mare a questa zona in maniera tattica e occulta. Infatti la colorazione nera deriva dal fatto che noi prevalentemente muoviamo di notte e lavoriamo in funzione di non essere mai visti. Quindi un'attività estremamente interessante, motivante e soprattutto per i ragazzi e le ragazze giovani che vogliono vivere un mondo fatto di avventura, di emozioni ma anche di tecnica, di essere legi alle forze dell'ordine come concetto, quindi di stabilire l'ordine giusto è certamente un qualcosa di interessante anche come professione, no? Assolutamente sì, io credo che l'esercito italiano stia lavorando in maniera molto importante per migliorarsi da tutti i punti di vista, quindi una crescita tecnologica non indifferente che sta permettendo all'esercito di essere al pari di altre organizzazioni paritetiche. Ed è ovviamente una soddisfazione anche per i ragazzi perché in tutti i ruoli in cui possono essere impiegati stanno ovviamente avendo riscontro delle loro professionalità, delle loro capacità e trovano possibilità realmente di avere una oggettiva soddisfazione nel loro lavoro che credo sia la cosa a cui tutti aspirano. Bene, quindi ragazzi e ragazze non dovete fare altro che andare sul sito dell'esercito italiano, iscrivetevi, fate questa domanda e partecipate perché vi si apre una carriera fatta di soddisfazioni, di emozioni, di tecnologia che potete spendere all'interno dell'esercito italiano e anche fuori se poi desiderate fare un altro percorso.